Seguire una serie tv oggi rispetto a seguirla nelle anni 90 e nei primi 10 anni 2000 è un'esperienza molto diversa perché oggi se vogliamo vederci una serie tv abbiamo tutta una serie di programmi di streaming legali o non legali che ci permettono di andarla a vedere dal primo all'ultimo episodio anche guardandoli uno in fila all'altro. All'epoca invece era qualcosa di diverso perché seguire una serie tv a meno di non voler comprare costosi cofanetti di dvd o prima ancora collezioni intere di videocassette voleva dire cercarla in televisione, aspettare che uscisse su qualche televisione e andare ogni giorno o più spesso una volta a settimana esattamente a quell'ora a guardarla, cercando di ricordarsi quello che era avvenuto nelle settimane precedenti. Il modo era quindi diverso e se oggi nel bene o nel male tutti coloro che guardano un po' di queste serie ne guardano molte anche perché sono spesso fatte da pochi episodi, un tempo le serie tv che si potevano seguire erano limitate e a volte per riuscire a seguirle bisognava magari impostare il videoregistratore per registrarla la sera in cui non ci si era o cercare di recuperarla in qualche replica, insomma era un'esperienza molto più complessa e per questo forse se oggi potremmo elencare decine di serie tv che ci piacciono all'epoca la scelta era spesso molto più limitata e nel mio caso, di fronte a varie serie che seguivo e che mi piacevano come ad esempio Friends, tanto per dirne una, o Dawson Creek, tanto per dirne un'altra e forse le due serie che maggiormente mi colpivano erano Scrubs e Una mamma per amica. Non sto scherzando, allora Scrubs è probabilmente la mia serie preferita dell'epoca con Gianno ve ne parlerò, ma è la miglior serie a posteriori che posso dire che racconta la vita che ruota intorno al mondo medico, ma di quello ne parleremo. Era una serie che aveva dei bravissimi attori, aveva un bellissimo stile di scrittura e aveva dei personaggi meravigliosi inseriti in storie che facevano ridere ma facevano anche tanto pensare. Tutto questo in Una mamma per amica, o Gilmore Girl per intenderci chi conosce il titolo inglese, in realtà non esisteva, era una serie con personaggi stereotipati, che raccontava la vita di una donna che era rimasta incinta molto giovane, aveva cresciuto questa figlia e ora che anche la figlia aveva raggiunto i 16 anni letteralmente cresceva insieme a lei. Personaggi standard, storie che tendenzialmente andavano a finire come ci si poteva aspettare, ma qualcosa di cui mi ero letteralmente innamorato, che non erano le protagoniste, per quanto Lauren Graham niente assolutamente nulla da dire, ma erano invece i dialoghi. Ora, Una mamma per amica aveva dei dialoghi che erano una bomba, una bomba. I personaggi sparavano come delle macchinette una serie di frasi velocissime che costringevano ad accendere il cervello per seguirle, ma che creavano uno stile di comicità rapido e divertentissimo. Dialoghi che a volte ti sarebbe venuto voglia, o all'epoca non si poteva ovviamente in televisione, di tornare indietro per riascoltarli, perché in mezzo a quel flusso ininterrotto di parole le battute erano semplicemente da scompisciarsi. Guardare quegli episodi era a volte trovarsi a dover assistere a fruttivendoli con la quinta elementare che facevano battute e parlavano come se avessero letto tutti i filosofi della Terra. E la cosa, devo dire, è che era molto molto bella e molto molto divertente. Purtroppo non sono tante le serie che hanno dei dialoghi così rapidi e divertenti. La mente dietro quei dialoghi si chiamava Amy Sherman Palladino e qualche anno fa insieme al marito ha scritto una nuova serie mantenendo e forse portando all'estremo il suo stile di scrittura. E quella serie, così sboccata, divertente e meravigliosa, si chiama La fantastica signora Maisel. Ora, io oggi voglio parlarvi di questa serie non solo per raccontare che cosa di questa serie funziona, ma anche per provare a ragionare un po' con voi su come gli Stati Uniti, le serie create negli Stati Uniti, affrontino la narrazione della loro storia recente. Perché, e lo sappiamo benissimo, se quando devono fare una storia ambientata nel lontano passato, magari non in loro, ad esempio nel passato romano, in quello medievale, molto spesso gli statunitensi fanno delle serie TV che non hanno nulla di storico, quando invece si concentrano sul loro passato, soprattutto quello recente, beh, le cose cambiano e anche una serie comica e francamente assurda come La fantastica signora Maisel può avere tanto da raccontarci dal punto di vista storico. È veramente così? È solo un'impressione? Beh, ne parliamo ovviamente dopo la sigla. Apparentemente la trama della fantastica signora Maisel è abbastanza semplice, ma comunque molto particolare. La storia è ambientata alla fine degli anni 50 e inizio degli anni 60, negli Stati Uniti, principalmente a New York, dove una giovane donna, Miriam Maisel, è cresciuta. Fa parte di una famiglia della media ricca borghesia di religione ebraica, che vive a New York, ha tutto quello che una donna dell'epoca sembra poter desiderare. Ha un bel marito, simpatico, ha due figli, ha una bella casa, e insieme al marito ha anche una piccola passione nascosta, che non è niente di troppo strano, ma è semplicemente quella di andare per locali a vedere, ad ascoltare, dei comici, in particolare dei comici che fanno stand-up, cioè quei comici che salgono sul palco con un microfono e fanno battute interagendo in qualche modo anche con il pubblico. Bene, la spiegazione di stand-up mi rendo conto essere molto scarna, ma tanto per darvi un'idea. Bene, questa coppia, apparentemente così perfetta, che poteva veramente far sembrare questo, la classica commedia romantica in costume, in realtà ha due segreti ancora. Il primo è che il marito, nonostante lavori in un bello ufficio, abbia un bello stipendio, in realtà vorrebbe fare il comico, cosa che però non sa fare, perché le sue battute sono pessime, anzi, le migliori battute in realtà gliele scrive la moglie. La seconda è che il marito però è anche fedifrago e, come nei classici cliché, tradisce la moglie con la segretaria, fino a quando non glielo confessa, perché ha deciso di lasciarla per andare a vivere con la segretaria stessa. A questo punto, la nostra protagonista, appunto, Miriam Midge Maisel, ubriaca fradicia, si presenta al Gaslight, cioè il locale dove spesso andava insieme al marito. Sale in sottoveste ubriachissima sul palco e inizia a raccontare quello che gli è successo, con uno stile comico a dir poco meraviglioso, che incanta gli spettatori, convince un poliziotto a prenderla e portarla in galera, ma soprattutto convince una di coloro che gestiscono quel locale, Susie Myerson, l'altro grande personaggio di questa storia, a farla, a provare a farla diventare una comica. Ma non una comica da fare ogni tanto uno spettacolo nei locali, no, no, proprio una comica di professione. Ora, nelle varie stagioni di questa narrazione si segue la sua vita, la sua progressiva ascesa, e attraverso questa ascesa, ed è questo molto interessante dal punto di vista storico, si riesce a seguire un po' i cambiamenti che in quegli anni stavano avvenendo negli Stati Uniti, allo stesso tempo entrando in un mondo che dice di essere la patria delle libertà, ma che poi impone tutta una serie di regole scritte e non scritte a chi ci vive. Ci sono le regole della società che vogliono che una donna si sposi, faccia figli e poi stia a casa. Ci sono le regole che vogliono che quella donna ami i figli, mentre, e su questo la narrazione è assolutamente spietata, Midge ha i figli, gli vuole sicuramente bene, ma non ha nessuna intenzione di occuparsi di loro. E poi ci sono le regole dello Stato che impongono che di certi argomenti non si possa parlare, che certe battute siano un insulto contro la pubblica morale e costringono i primi comici a molto spesso a fare dei viaggi in galera semplicemente per aver detto una battuta di troppo. E non siamo nel Medioevo europeo, dove forse sotto certi aspetti le cose andavano meglio, ma siamo invece negli Stati Uniti di inizio anni Sessanta. Il viaggio è un viaggio perfettamente ricostruito, secondo me, sotto certi aspetti almeno visivi dal punto di vista storico. Noi forse in Italia non siamo tanto abituati, perché le nostre serie TV, anche per questioni di budget, diciamolo, molto spesso quando sono ambientate nel passato lo ricostruiscono solo in parte, magari qualche oggetto, qualche vestito, ma poi molto spesso le ambientazioni gridano al siamo ambientati negli anni Sessanta, abbiamo preso qualcosa dei giorni nostri che più o meno gli assomiglia e lo abbiamo fatto entrare in qualche modo, con qualche eccezione. Ad esempio, la meglio gioventù, secondo me, è bellissimo nel ricostruire lo spirito di quegli anni, ma sono grandi eccezioni. In questa serie, invece, come in tante altre, la ricostruzione è decisamente su un altro livello e, alla fine delle cinque stagioni, anche se non era ovviamente quello l'obiettivo di chi la serie l'ha preparata, si sapranno molte più cose su quell'epoca, di costume, di società, di curiosità, dove andavano in vacanza gli ebrei ricchi dell'epoca. Sembra una stupidaggine, ma è molto curioso, molto interessante e può portare ad andare a fare delle scoperte interessanti anche dal punto di vista storico, ma soprattutto si cercherà di entrare in un mondo in evoluzione che, ripeto, sembra molto lontano, ma che in realtà temporalmente non lo è così tanto. Non è esattamente tutt'oro quello che luccica, è soprattutto in questa serie, perché se alcuni argomenti sono stati ben ricostruiti, altri sono stati solo sfiorati. Se lo si paragona, ad esempio, ad una serie che aveva molti meno compromessi nel mostrare il passato, come Mad Men, serie su pubblicitari americani, più o meno sempre negli stessi anni, ci si rende conto come nella fantastica signora Maisel il tutto sia stato un po' imbellettato, alcune cose siano appena state sfiorate, ad esempio le questioni razziali. Ogni tanto si dice, eh, ma guarda che i suonatori di colore sono un po' meno considerati rispetto a quelli bianchi. In realtà le cose all'epoca erano decisamente diverse. E, a parte una parentesi, se non sbaglio, nella terza stagione, questo argomento, seconda terza stagione, questo argomento viene solo sfiorato, appunto, in una o due puntate. Anche lo status della donna stessa è, come dire, un po' ammorbidito, perché nella fantastica signora Maisel lei riesce, nel bene o nel male, a farsi largo quasi da sola in questo mondo. All'epoca avrebbe probabilmente avuto molti più pregiudizi di quanti si trovò a subire in realtà. E anche questo, come dire, è solo leggermente sfiorato. Forse si sarebbe potuto calcare la mano di più. Ma, dopo tutto, è una serie comica. Ci bisogna fermarsi ad un certo punto e non si può andare oltre. Quello che, invece, funziona molto bene e, secondo me, molto più rispetto a quanto funzionava in Gilmore Girls è l'aspetto dei personaggi. Perché in Gilmore Girls i personaggi, è vero, parlavano velocemente, facevano battute che erano palesemente esagerate per il loro livello culturale, ma erano alla fin fine dei personaggi abbastanza standard. C'era la 30-40enne che cercava di cambiare la propria vita, la ragazza che andava a scuola, c'era Luke, misantropo chiuso, che gestiva il bar. Tutti i personaggi che avevano ognuno una piccola vena di follia. La madre forse ne aveva qualcosina in più, il personaggio di Lauren Graham. Però, alla fin fine, erano comunque dei personaggi reali che ti davano l'idea di poter veramente essere incontrati in un qualunque paesino americano. Nel caso della fantastica signora Mason, invece, i personaggi sono stati molto spinti verso la follia. Non hanno completamente travalicato quella soglia che farebbe diventare questa una totale commedia dell'assurdo come Ionesco, ma, come dire, continuano ad ondeggiare tra la follia e la realtà rimanendo molto, molto sopra tra le righe. Quindi abbiamo, ad esempio, il padre di Midge, per alto interpretazione strepitosa, che è un professore serio, importante, ma che poi ogni tanto sembra francamente autistico nel suo essere chiuso, nel suo mondo, cosa che lo porta ad estragnarsi e a dire delle cattiverie incredibili, come se fossero la cosa più normale del mondo. Abbiamo il personaggio di Susie Meyerson, quindi l'agente di Midge, che è una donna che per quattro stagioni è completamente spietata, sembra vivere a duemila all'ora, veramente un quarto di miglio alla volta, tanto per citare, come se veramente dovesse morire fra cinque minuti e volesse mordere tutto quello che può del mondo, cercando di ottenere quello che la vita non gli ha dato fino a quel momento. C'è il personaggio della protagonista, Midge Maisel, che è sì, bella, bella l'attrice, ma bello anche il personaggio, nel senso che viene detto più volte che lei è una bella donna, è simpatica, fa ridere tutti, ma dall'altra parte è praticamente un mostro, è una donna che appunto si disinteressa completamente dei bambini, ma al punto da vagamente interessarsi di come stiano e provocargli, ma questo lo dice la serie, non è che lo si capisce, dei palesi danni psicologici che avranno effetto sul loro futuro, una donna che non esita a passare sopra qualunque cosa per quello che è il suo obiettivo. Abbiamo l'ex marito che in realtà rimarrà per tutta la serie, perché rimarrà molto vicino alla famiglia, che è una persona sfortunatissima, che cercherà di fare tutto per fare un po' ammenda per quello che ha fatto, ma incappando in una serie di errori, di confusioni, che anche qua lo fanno sembrare quasi un personaggio da operetta piuttosto che reale, e questo insieme di personaggi così estremi, perché poi estremi sono anche quasi tutti i personaggi di accompagnamento, messo insieme fa un effetto comico che con i dialoghi così veloci è semplicemente centuplicato, diventando ancora più divertente e ancora più forte. In questo mondo così folle, anche quei pochi personaggi reali, perché quasi tutti i personaggi sono basati vagamente su personaggi reali, ma ci sono anche dei personaggi realmente esistiti come il famosissimo comico Lenny Bruce che compare effettivamente nella serie, bene, anche questi personaggi reali, pur essendo all'epoca personaggi molto estremi, inseriti all'interno di questo contesto a volte sembrano quasi personaggi più pacati e tranquilli rispetto agli altri, e questo è veramente molto particolare da questo punto di vista. È una serie che con i suoi personaggi sa essere spietata e dolce, perché appunto da una parte ripresenta come dei mostri e un tipo di comicità che se ci pensate in Italia un tempo era molto frequente. Lo stesso Fantozzi e i personaggi che gli gravitano intorno sono dei mostri, non hanno nulla di reale, sono personaggi che vengono visti in una maniera spietatissima, senza concedere loro nulla. Pensate a Filini, pensate alla signorina Silvani, pensate a Calboni, sono personaggi solo degli sconfitti nella vita, anche quando hanno successo, perché non riescono a trovare il loro posto nel mondo. Bene, qua tutti i personaggi sono così. Alla fine però c'è una volontà di concedere il loro riposo, eppur senza dargli una vera e chiara vittoria, perché nessuno dei personaggi alla fine delle cinque stagioni, l'ultima stagione è da una parte la stagione che chiude la storia, ma anche la stagione che facendo dei grossi salti nel futuro alla vecchiaia dei personaggi mostra un po' quello che ne è stato di loro, bene, anche quell'ultima stagione riesce a dare loro un po' di pace senza dare loro una vera vittoria. Un finale dolce, amaro e divertente come spesso sono i finali delle migliori battute, che ti fanno ridere, ma poi ti lasciano lì a pensare che dopo tutto quella risata è stata strappata magari parlando delle disgrazie di qualcuno. Bene, per tornare al paragono iniziale con l'altra mia serie preferita, cioè Scraps, forse queste due serie hanno in comune quello, un grosso rispetto dei personaggi. In Scraps i personaggi non erano così estremi, o meglio, alternavano essere estremi all'essere invece dei personaggi assolutamente reali e quello permetteva alla serie di continuare a saltare da un registro più comico a un registro più serio. Qui non è un continuo saltare, è quasi come se i personaggi passassero dall'estremo al reale solo nelle ultime puntate della serie. Eppure questo gioco così bello permette di dire che alla fine dopo aver riso così tanto con tutti quei personaggi si può riuscire a farli riposare, a sorridere, non più ridere, ma sorridere con loro e di quello che gli è successo. Ed è un modo molto bello secondo me di chiudere una serie. Quindi, francamente, io non ho fatto nessuno spoiler volutamente perché immagino che tanti non l'abbiano vista. Io questa serie se siete amanti della comicità e volete dare un bello sguardo alla vita degli Stati Uniti di quell'epoca ve la consiglio. Vi dico di non prenderla appunto dal punto di vista storico come oro colato ma francamente non è l'obiettivo di tutto questo. Ridete, appassionatevi ai personaggi e godetevela perché la fantastica signora Maisel è oggettivamente una delle serie commedie più belle che siano usciti negli ultimi anni e soprattutto che non cala neanche di una virgola dall'inizio alla fine. Ci può essere una puntata più bella la puntata più brutta ma le stagioni sono comunque una più bella dell'altra. Insomma non è Big Bang Theory che superate le prime stagioni non fa ridere tipo due volte a stagione ma questa è un'altra storia. L'avete vista? Cosa ne pensate? Ci vediamo tra una settimana con la prossima recensione e tra qualche settimana giuro vi parlo anche di Scrubs. A presto!